Il Texas Hold'em, più comunemente chiamato Hold'em, è una delle tante sottofamiglie del poker. In questo video noi tratterremo solo il Texas Hold'em, italianizzato in poker alla texana. Esaminiamo l'immagine che visualizziamo sullo schermo. In pratica, questo è quello che vedremo in un tavolo di un tornillo di Texas Hold'em. Nel Texas Hold'em il mazzire viene indicato da un piccolo dischetto chiamato bottone. Bottone del mazzire, cioè dealer button. Prima che inizia la mano, il primo giocatore alla sinistra del mazzire piazza una puntata obbligatoria, chiamato Small Blind, piccolo buio. Ed il giocatore alla sinistra dello Small Blind piazza un'altra puntata obbligatoria, chiamato il Big Blind, il grande buio, che generalmente corrisponde al doppio dello Small Blind. Tutti i giocatori al tavolo ricevono due carte coperte. Queste sono chiamate le Pocket Card. Per continuare a giocare, ogni giocatore alla sinistra del Big Blind deve fare Call, ovvero chiamare, effettuando la stessa puntata del Big Blind. Se non volete aggiungere denaro al piatto, perché avete una brutta mano, potete fare Fold, gettando via le vostre carte. Se pensate di avere una buona mano, potete fare Race, ovvero rilanciare, effettuare una puntata superiore al Big Blind. Ogni volta che un giocatore rilancia, il resto dei giocatori, per rimanere in gioco, devono fare Call puntando la stessa somma. Se tutti i giocatori foldano tranne uno, il giocatore rimasto vince le chips del piatto. Finito il primo giro di puntate, una carta viene bruciata o scartata dalla cima del mazzo e le successive tre carte vengono scoperte al centro del tavolo. Queste tre carte vengono chiamate Flop. A questo punto parte il secondo giro di puntate, iniziando dal giocatore in posizione di Small Blind. Ho il primo giocatore ancora in gioco, a sinistra del dealer, che ha l'opzione di fare Check, e cioè non puntare nulla, oppure puntare. Se nessuno punta, quindi tutti i giocatori fanno Check, si procede con l'aggiungere un'altra carta scoperta sul tavolo. Se invece uno o più giocatori puntano, il resto dei giocatori, per continuare a giocare, devono decidere se chiamare o rilanciare, oppure passare. Questo giro di puntate termina quando non vi sono più puntate da effettuare. Terminato il secondo giro di puntate, il mazziere, il dealer, brucia la prima carta e la successiva la gira sul tavolo. Questa carta viene chiamata il turn. A questo punto c'è un altro giro di puntate, che è uguale a quello che abbiamo visto per il flop. Questo giro di puntate termina quando non vi sono più puntate da effettuare. Dopo aver terminato il giro di puntate, il dealer brucia la prima carta del mazzo e gira la successiva sul tavolo. Questa carta viene chiamata River, che va a completare le 5 carte in comune con tutti i giocatori, chiamate le Community Card. A questo punto vi è l'ultimo giro di puntate. Terminato questo giro di puntate, se sono rimasti in gioco due o più giocatori, si va allo showdown. Il primo a mostrare le carte è colui che ha effettuato l'ultima puntata, o l'ultimo rilancio. Il giocatore con la migliore combinazione di 5 carte vince il piatto. Nel caso in cui più giocatori abbiano lo stesso punto, il piatto viene diviso equamente. Una volta segnato il piatto, termina la mano e si procede con la mano successiva, con il bottone che passa in senso orario al giocatore successivo. Vengono piazzati i bui e si parte con la distribuzione delle carte. Adesso procediamo con la descrizione della gerarchia delle mani. Il punteggio più basso è la carta alta. Il punteggio superiore alla carta alta è la coppia. La coppia si ottiene con due carte dello stesso valore. Il terzo punteggio è la doppia coppia. Praticamente sono due carte dello stesso valore più altre due carte dello stesso valore, più una carta aggiuntiva. Poi, successiva alla doppia coppia, abbiamo il tris, che è composto da tre carte dello stesso valore, più due carte aggiuntive. Il punteggio superiore al tris è la scala, praticamente composto da cinque carte in sequenza numerica di seme diverso. Il punteggio superiore alla scala è il colore, che è composto da cinque carte dello stesso seme, non in sequenza. Il punteggio superiore al colore è il full, che è composto da un tris più una coppia. Il punteggio superiore al full è il poker, che è composto da quattro carte dello stesso valore, più una carta di influente. Il punteggio superiore al poker è la scala a colore. che è composta da cinque carte dello stesso seme, in sequenza numerica. Spero che questo video vi sia stato utile. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace e condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!